Vitaliano, questa bussola finalmente sta crescendo, ci dà le sue analisi di questa partita? Sì, stiamo crescendo partita per partita, anche se oggi abbiamo giocato maluccio, non ci siamo comportati bene in campo, però nonostante ciò è arrivato il risultato. Stiamo crescendo, abbiamo fatto due belle prestazioni, anche domenica scorsa nel derby un 3-0 dico immeritato perché non era giusto un risultato così per la partita che abbiamo visto e che abbiamo giocato. Stiamo crescendo giorno per giorno e i miei ragazzi si sentono bene rispetto alle altre partite, stiamo crescendo pure con gli allenamenti e credo che continuando così possiamo arrivare al traguardo che ci siamo prefissi. Mister Rizzo del Campora, la sua analisi di questa partita nonostante il risultato? L'analisi è stata una bella partita perché tutte e due le squadre impostavano il gioco da dietro e questa è la prima squadra che ho incontrato quest'anno che volevano giocare a pallone. Anche la nostra è stata una bella partita, il risultato è un po' bugiardo perché non meritavamo di perdere, il pareggio era giusto, il portiere loro ha fatto due bei interventi, il rigore se l'ha inventato l'albitro e buonanotte.